Buongiorno, dottore. Ciao. Ma qui abita la Tunisina? Sì, sta qua. Come avete fatto a rintracciarla? È stato mancuso per la stranieri. Dici che è stata una pura combinazione. Andiamo. Buongiorno. 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 Sì, no, ma signora, no, ma mi fa... Sì, buonasera, fazio! Signora, un momento, un momento, un momento, signora. Sì, signora, un momento, signora. Noi... Oh, noi, eh, che? Noi, che rima! Ah, che rima, cerchiamo che rima. Che rima, che rima, che rima! Sì, è un bambino, ha un figlio, ha un figlio, ha un figlio, ha un figlio. Ah, un figlio, di cinque anni, se ho capito bene, ed è andata via con lui. Non ne voglio sapere di più, vai a telefonare a Montelusa, all'ufficio stranieri, fatti mandare uno che parlare. Brigade, eh! Mon nom, Salvo. Moi, je m'appelle Aisha. Aisha. Salvo, Aisha. Piace.